Si alza il sipario sulla stagione 2017-2018 per la Pistoiese e lo fa con la vittoria casalinga contro il Monza. Un successo targato Franco Ferrari, l'attaccante argentino che ha trasformato un rigore nel primo tempo. Non solo per questo sarà lui il protagonista del match. Per la cronaca entrambe le formazioni partono studiandosi e rispondendo colpo su colpo fino all'episodio chiave della gara che consente agli arancioni di portarsi in vantaggio sul finale dei primi 45 minuti. Gli ospiti sono pericolosi in due occasioni ad inizio ripresa. Con Palazzo nel giro di pochi minuti, prima il numero 11 del Monza incrocia troppo il tiro. Più tardi Cori pesca lo stesso da solo in aria. Palazzo non ne approfitta e spreca la ghiotta opportunità per pareggiare i conti. Intanto Mister Indiani opta per l'inserimento di Luperini al posto del giovane Tartaglione partito titolare per una squadra che si regge sempre contando che là davanti c'è Ferrari che sfiora il gol di tacco al sessantesimo. Prova a cambiare gioco anche Zaffaroni ma la Pistoiese riesce a contenere bene le difficoltà e ad arginare le ripartenze di un Monza che gioca gli ultimi 10 minuti in 10 per l'espulsione di Cori, reo di aver commesso un brutto fallo ai danni di Nossa. Ancora in mostra Ferrari che vorrebbe chiudere la pratica con un altro sigillo ma niente da fare. I minuti di recupero sono ben 5 ma Amlili e compagni riescono a difendere il risultato. Sono tre punti importanti, i primi della stagione davanti al proprio pubblico. Servono a dare carica, tranquillità ad una squadra che deve ancora registrare gli equilibri, lavorare per amalgamarsi visto anche i nuovi arrivati da pochi giorni. Va subito archiviata questa partita. Gli arancioni tornano in campo venerdì 8 settembre con l'anticipo ad Arezzo. Quell'Arezzo che in questo secondo turno ha sbancato Gorgonzola battendo la Gianna Arminio.